batteria e litio anche trasparente croce e delizia buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ipocamper oggi abbiamo questo bel bambino da analizzare e parleremo quindi di litio allora lo so che è un argomento di cui abbiamo parlato diverse volte ma questa volta vi voglio presentare un prodotto un po particolare mi ha colpito particolarmente anche a me perché ha un form factor veramente insolito e sembra quasi blindato stiamo parlando di una batteria della litio store l'ha conoscendo un'azienda che è stata una tra le prime diciamo ad aver introdotto nel mercato le batterie relativamente economiche quindi entrata sul mercato in questa maniera e adesso si è espansa e piano piano ha un catalogo di batterie veramente molto molto vasto questa batteria in particolare mi ha colpito per diverse caratteristiche che mi hanno convinto a fare un video cercando di elencarvele la guarderemo anche dentro per farvi capire di che cosa si tratta prima di fare ciò però inscrivete il canale come al solito mettete un like sui video che vi piacciono ed attivate la campanella per ricevere notifiche dei video che caricheremo perché la scelta di questa batteria è fondamentalmente per una ragione di dimensione di capacità ovviamente stiamo parlando di una batteria di 400 ampere ora che è molto molto compatta per la quantità di energia che riesce a fornire 400 ampere ora si trovano all'interno di una scatola chiamiamola così di 46 di larghezza per 32 per 27 di altezza stiamo parlando di centimetri quindi molto compatta anche perché il peso che chiaramente non è trascurabile però stiamo parlando di 42 kg se voi considerate che una batteria al piombo da 100 agm ha un peso di circa 30 35 kg possiamo fare un confronto di 120 kg rispetto a un 40 quindi pesa sostanzialmente un terzo come tutte le batterie al litio questo per farvi capire il vantaggio di avere un oggetto del genere oltre a tutti gli altri vantaggi che conosciamo vi do un po di caratteristiche la capacità vi ho detto è 400 ampere ora è una leaf e pop 4 corrente di carica massima 200 ampere quindi può essere caricata con 200 ampere ora quindi se noi abbiamo un alternatore particolarmente potente un carico di batteria particolarmente potente questa batteria da anche se scarica completamente in due ore può essere ricaricata con correnti veramente importanti non capirà mai nei nostri veicoli però giusto per dirvi la corrente di scarica continua questa è un grosso una cosa molto importante sono 250 ampere quindi significa che all'interno a un bms da 250 ampere le batterie da 100 hanno un bms da 100 quindi per avere una buona corrente di scarica per esempio poter mandare un condizionatore più un phon contemporaneamente oppure più un carico resistivo la macchinetta del caffè per esempio contemporaneamente abbiamo bisogno magari di mettere due batterie in parallelo da 100 per avere un 200 ampere ora di batteria con utilizzando i due bms uno da 100 e l'altro da 100 ma questo qua questa batteria invece lo ha integrato all'interno in un unico contenitore 250 in più ha una corrente impulsiva da 350 ampere quindi molto interessante logicamente la temperatura di esercizio è da meno 20 a 55 perché questo perché è un film riscaldante all'interno ma lo vedremo aprendo la batteria quindi queste sono le caratteristiche a una cosa molto importante garantita 11 anni quindi questa è veramente una caratteristica come vedete qui molto molto particolare partiamo dalla cassa la cassa presenta una forma le dimensioni ve le ho dette ma la cosa interessante è che presenta queste boccole ai lati e in basso boccole da m6 che adesso andiamo a svitare vi faccio vedere a che cosa servono ci vengono fornite queste l e queste piastrine avvitate che servono queste piastrine per fissarla vi faccio vedere le svito svito le tre viti m6 sono di alluminio di metallo possono essere agganciate nella parte inferiore e in modo da fissare la batteria sia da un lato sia dall'altro vedete quindi voi potete prendere la batteria non solo con queste l non solo la trasportate ma la potete fissare molto interessante in più presentano queste altre io adesso qui ve l'ho già parzialmente svitata la svito da qua non la vedete eccola presenta quest'altro piastrino in metallo vedete eccolo che è questo sostanzialmente che può per che permette di accoppiare le batterie di queste batterie se ne possono accoppiare fino a otto in parallelo quindi per avere uno otto per quattro 3.200 ampere ora di batteria una cosa che da noi ovviamente nei nostri veicoli non serve ma per farvi capire quindi possiamo accoppiarle sia da un lato sia dall'altro quindi sia in lungo sia in largo questa cosa è veramente interessante anche perché poi vi posso assicurare che il materiale è veramente fatto molto molto bene guardate anche la struttura vedete molto molto interessante nella parte anteriore presenta il pulsante di accensione della batteria con dei led e poi ci sono due rg45 che servono per la comunicazione ma non solo per la comunicazione per analizzare la batteria ma per mettere in comunicazione le batterie per farle parlare una con l'altra in modo che mediante questo collegamento si riescono a equilibrare in maniera corretta le celle la batteria può essere anche analizzata tramite computer ma questa è una cosa che riguarda diciamo gli operatori del settore adesso vi vado a svitare il coperchio in modo che andiamo a guardare cosa c'è dentro e come è fatta questa è la batteria nella sua forma interna le celle che si trovano qui sotto eccole queste di color blu si vedono si vedono da qua una struttura di metallo che le cinge e le mantiene in posizione e poi chiaramente sono fissate all'interno di questa cassa di plastica molto robusta nella parte posteriore abbiamo il film riscaldante quindi quando la temperatura scende sotto un certo valore per evitare danneggiamenti in fase di carica si riscalda cioè l'energia viene prelevata dalle celle automaticamente riscalda le celle per evitare appunto questa problematica di danneggiamento delle celle stesse il bms è il circuito di controllo delle celle dell'equilibrio delle tensioni tra le celle sia di eventuali anomalie che potrebbero crearsi all'interno delle fasi di carica e discarica all'interno delle celle molto molto importante perché praticamente un controllore di sicurezza è proprio lui che gestisce lo stato di salute della batteria in più abbiamo tutte tutte questa parte delle piastre che è saldata e di collegamenti vedete queste sono apparentemente bus bar tutto saldato al laser e integrato all'interno quindi dimenticavo di dirmi all'interno ci sono anche due piccole ventole che servono per il raffreddamento delle eventualità di sovra temperature come descrizione ci siamo noi adesso l'andiamo ad installare in un van quindi 400 ampere in un van e in un posto veramente dove c'entra assolutamente in maniera precisissima almeno speriamo sotto la dinette di un malibu andiamo di là e lo andiamo a montare insieme allora cari amici eccoci qua il veicolo dove abbiamo installato la batteria è questo qua dietro non è assolutamente finito come vedete avrei voluto fare l'ultima parte del video per l'installazione ultimata ma non è stato possibile per un piccolo problema che abbiamo avuto sulla macchina e quindi ci si sono allungati i tempi ma avevo premura di farvi comunque conoscere il funzionamento della batteria quindi lo vedete smontata sistemeremo successivamente la cosa che mi prima di farvi vedere è appunto la posizione la batteria nonostante abbia dimensioni relativamente compatte può essere installata come vedete sdraiata su un lato oppure diciamo su su cinque posizioni quindi quella normale posizionata posizione orizzontale le due laterali lato lungo lato corto abbiamo pertanto una grande varietà di installazioni in funzione della zona che abbiamo a disposizione per verificare il funzionamento adesso attiviamo l'applicazione eccola qui si chiama si chiama se non metto l'occhiali non lo so volt go volt go bluetooth la lanciamo scegliamo la batteria lui e prende logicamente la serie di dispositivi che trova intorno ed è questo qui questo da 400 zt 12 volt 12,8 volt 400 ampere ok allora schermata è molto molto semplice abbiamo lo stato della batteria 98 per cento 3 virgola ampere di assorbimento istantaneo la temperatura delle celle considerate ricordo che questa è una batteria pre riscaldare che si può pre riscaldare non pre riscaldare che si può riscaldare con il film riscaldante la tensione della cella e avete i dettagli che sono la tensione delle celle superiori lo vedete le quattro celle a 3,315 e poi i vari dettagli questi sono dettagli che fondamentalmente a noi non interessano allora sta scaricando con 3 ampere e mezzo io ho collegato in maniera sempre volante un inverter con un phon per farvi vedere gli assorbimenti istantanei come vedete da 3 ampere e mezzo siamo arrivati a 51,7 ampere considerare questo il mio phon piccolo piccolo alla prima velocità lavoriamo alla seconda velocità e abbiamo ben 104 quasi 105 ampere di scarica chiaramente questa scarica logicamente andrà a svuotare progressivamente la batteria ok quindi da questa applicazione noi praticamente abbiamo uno shunt non evoluto come quello della victron perché lui analizza anche la capacità residua questo non la analizza però comunque sia se vogliamo sapere lo stato di carica della batteria possiamo tranquillamente avvalerci di questo strumento molto molto semplice ok allora questa è la batteria della litio store una buona soluzione compatta con 11 anni di garanzia cosa veramente non da poco pertanto su questo van sicuramente il cliente avrà l'autonomia che desidera considerate che l'unica fonte di energia particolarmente energivora è la stufa a gasolio che abbiamo installato noi al posto della stufa a gas quindi quella ovviamente è una fonte di richieste energetiche abbastanza importante comunque questa è la posizione come vedete riusciamo ad installare anche sotto una dinette relativamente piccola di un van quindi veramente secondo me una buona soluzione per oggi quindi tutto se vi è piaciuto il video ovviamente iscrivetevi al canale e mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo mi raccomando seguiteci giovedì prossimo alla live con daniela di mollo tutto e vado vivere in camper ci vediamo al prossimo video anzi prima ci vediamo con daniela insieme giovedì alle ore 21